La mattina mi sveglio all'alba. Prendo il gozzo Mare Mio, creato da GIMMARE, un progetto per la pulizia e la salvaguardia del mare. Vedo prima la direzione del vento, così magari la spazzatura si è accumulata tutta da un lato. Una volta tornata a terra, accumulo la spazzatura, la differenzio e la metto negli appositi contenitori. Dopodiché può cominciare la mia giornata. A presto. 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 A presto.